Linda da Milano, vai Linda Ciao a tutti, buonasera, ciao, ciao Vedo scritto sotto fruttariana Fruttariana, beh la cosa mi emoziona, amica mia Una donna fruttariana, beh stupendo Allora cosa mangi, ma sei anche tu melariana come quello dell'altro giorno oppure no? Sì, io sono melariana ma una decina di giorni all'anno Quando facciamo il raduno melariano Cioè per il resto dei giorni che fai? Melariani, i raduni melariani Che cazzo ne so, guarda Eh, che stiamo insieme, dieci giorni mangiamo solo mele E invece per il resto dell'anno che fai? Mangio, allora, la mela la mattina, frutta dolce a pranzo e frutta ortaggio e frutta grassa la sera Che vuol dire frutta ortaggio? Frutta grassa quali sono? Le pesche ad esempio? No, 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 frutta grassa si intende olive, si intende avocado, si intende appunto questi frutti qua insomma E invece quella l'altra che è l'albicocchia? No, quella è frutta dolce e poi invece la frutta appunto ortaggio sono i pomodori, cetrioli, zucchini Che normalmente consideriamo verdure ma in realtà si tratta di frutti Allora non siete fruttariani, siete vegetariani? Cioè sei vegetariana o no? Eh no, ma botanicamente è un frutto lo zucchino, parliamo appunto Amica mia Linda, ma perché te fai tutte queste pippe mentali? Io te lo voglio dire molto semplicemente Ti fai delle pippe mentali pazzesche, è tutta una pippa mentale, la frutta così, la frutta colà eccetera No, ma perché è un discorso di salute Solo un discorso di salute, la carne tu la odi? Io sono dieci anni che non mangio carne, ho deciso di non mangiare i miei amici animali I tuoi amici animali, non li mangi gli amici animali Come mai non mangi? Perché non li vuoi vedere morti, non vuoi vedere la sofferenza Perché pensi che quelli che invece li mangiano sono dei complici di un assassino? Dimmi un po' No, 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 in realtà diciamo la ragione etica poi mi si è anche sviluppata in un secondo momento Più che altro io parlo di salute, quindi sappiamo l'ha detto anche l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità La carne è cancerogena, quindi viviamo appunto in un mondo malato e cerchiamo soluzioni per vivere meglio Senti Linda, ma tu potresti stare con un onnivoro, cioè con quello che mangia la carne Cioè potresti convivere, avere un fidanzato, un amante eccetera, oppure li scegli anche in base a questo? No, sì certo, però poi lo devo convertire Ah poi lo devi convertire, cioè a quel punto o lo converti oppure lo devi lasciare Non mi è mai capitato ma penso di sì Cioè in che senso, sei stata sempre con i tuoi simili diciamo, fruttariani, melariani eccetera? Sì, no O sei lesbica? O sei lesbica, no? Vegani, vegani, vegani Non sei lesbica? No, 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 per il momento no Bisex? Come per il momento signora mia, cosa vuoi dire per il momento? Beh, perché potrebbero piacerle anche le donne, che ne so Io ho l'idea Ma per cambiare idea, per me il cambiamento è una grande libertà No, ma io ho l'idea che le fruttariane, le melariane, siano un po' anche lesbiche, non so perché Cioè mi è venuta questa fissazione, non so C'è chi è fruttariano o melariano, alla fine No, ma è vero che avete la figa alcalina, come si dice? La vagina alcalina? Dottore, per coltesia Al cento per cento non garantisco, al cento per cento non garantisco, però diciamo che come tutti appunto i liquidi che vengono segreti da le ghiandole sono meno acidi, perché non abbiamo il pH acido tutto lì Cioè dunque sicuramente, come ci ha detto l'altro giorno il suo collega fruttariano iraniano, la sua vagina emette meno odori, o no? Questo si può vedere, perché infatti le mutande non puzzano come prima No, e questo è interessante, fermi tutti, blocchiamo tutto caro Parenzo Dottore, la plego dottore, venga dottore Ma in trasferta, che si porta il maggiordomo dietro, scusa Certo, dottore quando c'è trasmissione, paula, miserabili, portare tutto l'atto per te Io sono filippino, dottore Valenzo, che sente parole di vagine, di polchelie che vengono messe nella vagina, i polchelie, è molto dottore, ventella Deve imparare un po' di cose, deve imparare un po' di cose, che sta in Italia Cioè le mutande, non ho capito, le mutande, spiegami un po', le mutande di una fruttariana barra melariana Sì, possiamo anche tenerle più giorni, perché appunto non ci sono perdite come magari puzzolenti, maleodoranti, come chi mangia cose acidificanti Cioè tu per quanti giorni tiene le mutandine? Puoi tenerle anche per una settimana, diciamo, da fruttariana No, una settimana, no, ma perché poi a me piace anche cambiare i colori, per cui... Vabbè, comunque le potresti tenere... Cambio per un fatto estetico, ecco Dal punto di vista igienico le potresti tenere anche tre giorni, quattro giorni? Sì, sì, sì Un po' come me, Parenzo, io che non sono fruttariano, le tengo lo senso tra i quattro giorni Eh, bisogna vedere però se... No, le mie sono sporche, le mie tendono poi... Le tue invece sono linde come te, no? Sono linde Esatto, infatti mi chiamo così Senti, ma la cacca come la fai? Cioè i fruttariani barra melariani, ripeto, stiamo parlando con esponenti importanti del mondo politico italiano Cioè l'inda fruttariana melariana di Milano ci sta dicendo che può tenere le mutande perché è più pulita, più non c'ha gli odori brutti, cattivi, l'alito pesante Bravo, vedo che comunque, cioè, ti stai documentando bene No, ma me lo stai dicendo tu, io non ci credo assolutamente a queste puttanate Cioè sto cercando di spiegare alle persone che ci ascoltano qual è la tua posizione Io non ci credo a queste cose Sono puttanate, inaudite, inaudite Cioè una persona, io penso di avere lo stesso alito tuo Poi può darsi pure che abbia dei difetti miei, come dire, congeniti Oppure ho l'alito per altri motivi Ma non è che penso che i fruttariani barriani abbiano un alito migliore A proposito, ti ripeto, qual è? Non lo so Linda, la cacca, come la fai? Allora, dipende, dipende da quello che si ingerisce ovviamente Cioè di solito, a palline? No, 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 però che diciamo che rispetto all'alimentazione precedente è meno maleodorante Oppure ti dirò questa specifica Che l'odore cattivo dura meno L'odore cattivo dura meno Cioè non persiste come magari in quella di mio fratello, che è onariano Che cos'è tuo fratello? Onariano Onariano, che vuol dire onariano? Che mangia tutto Ah, onariano Perché onnivoro non esiste, perché in natura non esiste l'animale onnivoro Ogni animale ha il suo cibo specie specifico Senti, le fruttariane e menariane hanno più potenza sessuale o meno? Potenza? Sì, potenza nel senso quello riguarda gli uomini ovviamente Ma una donna si scopa meglio da fruttariani, insomma diciamo la verità, o no? Ma diciamo che viene meno molta aggressività Per cui c'è più gioco, c'è più ricerca di questo tipo di piacere, ecco Sì, scopate meno, diciamo la verità C'è meno forza fisica, meno aggressività, meno potenza, questo è il punto, o no? Cioè meno, diciamo, sì, insistenza da quel punto di vista lì C'è più leggerezza Siete in pace, siete in pace con voi Cioè cercate meno questo aspetto, come dire, bestiale del sesso Bravo, 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 bravo Che tristezza, ragazzi Siamo più evoluti da questo punto di vista Beh, evoluti, ma dipende dai punti di vista Allora Linda, sostanzialmente abbiamo capito che se scopa poco in quel mondo Allora di fruttariani barra melariani Prova a venire a un raduno melariano o poi ne riparliamo Per carità, ma assolutamente Senti, ma lo sperma maschile, che succede? Che rapporto ha una melariana frutteriana con lo sperma maschile? Qual è il rapporto? Vabbè, come sempre abbiamo già detto Si tratta di, diciamo, di esecrezioni che sono meno acide rispetto a quello normale No, ma è un rapporto positivo Oppure è una roba che non si può tollerare Una roba che... Ma a che cosa ti riferisci? Beh, ai contenuti, no? Ai contenuti Il contenuto sicuramente è meno, diciamo, meno denso e meno puzzolente Dici? Meno denso e meno puzzolente Beh, grandi indicazioni da Linda da Milano Possiamo anche andare oltre Grazie, grazie Grazie, ciao, ciao, ciao